Mister Durastante ieri in conferenza stampa aveva detto che l'Aquila domenica avrebbe vinto e così è stato. Sono stato buon profeta e ovviamente sono contento per noi, per il gruppo, per il mister, per i ragazzi e ovviamente per tutti i tifosi sopraggiunti qui oggi. In effetti diciamo che oggi a Montesilvano c'è stata una prestazione, una bella risposta che la piazza voleva. Sì, ovviamente possiamo dire alla piazza che noi possiamo fare pure meglio di oggi, dobbiamo fare pure meglio di oggi. Oggi siamo stati veramente compatti in tutti i reparti, siamo ripartiti bene e ovviamente torno lì, possiamo fare meglio, noi sappiamo che possiamo fare meglio. Però ecco, era importante vincere dopo queste due battute d'arresto, se così vogliamo chiamare, Giulianova sicuramente e il punto rimediato all'ultimo con la Torese. Allora, mister Antignani, bisogna dire che il Montesilvano comunque oggi ha dimostrato per l'ennesima volta di essere una squadra quadrata, forse è mancato un pochettino sottoporta anche se è un po' arrabbiato per la direzione arbitrale. Hai detto bene, sì, forse un po' sottoporta siamo venuti meno. Sono rammaricato più che altro non per la direzione arbitrale, più che altro perché mi è stata condizionata la partita dopo cinque minuti. Però la superiorità dell'Aquila è segnata, non è che noi ci dobbiamo mettere a fare chissà che cosa, a competere con l'Aquila. Sono più forti, abbiamo stretto la mano e si riparte subito per la Coppa Italia di mercoledì a Giulianova. Cosa è mancato, Mista? Niente. Noi abbiamo fatto la nostra prestazione, magari eravamo un pochettino messi male in mezzo al campo, loro hanno giocatori di qualità superiore ai nostri. e poi come hai detto tu c'è stato qualcosa che non ha ridato e quindi va bene così, meglio che sto zitto.